Il spazio del Cameo di oggi è dedicato alla sede dei laboratori Innova. L'edificio, progettato dagli architetti Sergio Bianchi e Adriano Draghino, si inserisce nel Parco Tecnologico Industriale della Tiburtina, un piano di zonizzazione destinato alle attività produttive. Il progetto sorge su un'area di forma trapezoidale di circa 5.600 metri quadrati. L'accesso principale è su uno dei fronti di minore estensione. Una strada distribuisce ad anello l'intero comprensorio. La sede ha una dimensione contenuta, prevede due diverse articolazioni formali che rispondono alle esigenze del programma funzionale. La zona piano terra è più articolata, ospita un volume a doppia altezza necessario per i processi produttivi previsti. Produzione industriale leggera e processi legati a tecnologie avanzate. Ai piani superiori lo spazio è più regolare e contiene una piccola zona uffici e un ampio spazio aperto destinato all'attività produttiva. I prospetti esterni sono caratterizzati dall'alternanza di parti cieche e parti trasparenti. Le parti cieche sono realizzate con il sistema di pareti ventilate in gress porcellanato. Le parti finestrate utilizzano pannelli vetrati continui. Sovrasta la zona del solaio di copertura, una struttura metallica con funzione di frangisole che permette di contenere il soleggiamento in particolare nei mesi estivi. La lezione di questa architettura risiede nell'attenzione alla sostenibilità del progetto e alla qualità degli spazi anche dei luoghi destinati alla produzione e al lavoro. Grazie a tutti. Grazie a tutti.